Mentre nel mondo si fanno la guerra, uomini contro uomini, e si dimenticano dei veri problemi, ecco la cosa dei veri problemi. La sofferenza di altri esseri umani, specie quella dei bambini. Smettetela di fare guerre e combattere facendo morire altri esseri umani, soltanto per il Dio denaro. Smettetela con le guerre e pensate ai veri problemi e alle sofferenze di altri. Grazie. Grazie. Grazie.